Per iscriverti al canale schiaccia su iscriviti e sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti delle notizie. Nuovo caso di ritiro di un farmaco poche ore fa si tratterebbe di un antibiotico molto comune usato anche in Italia. L'AIFA, agenzia italiana del farmaco, ha stabilito che l'antibiotico amoxicillina acido clavulanico della Teva debba essere tolto dal commercio, solitamente utilizzato per curare diverse patologie tra le quali otite e endocardite e a finire sotto accusa un lotto in particolare, il numero HT611AIC037526011 con scadenza 2-2020, tutti gli altri pare non presentino alcuna controindicazione. Nel farmaco sarebbero stati trovati grumi di polvere che non sono stati identificati nei campioni di questo specifico lotto.